Prima di iniziare questa camminata verifico se c'è copertura telefonica Il segnale telefonico c'è, mi dà la 4G, ci sono due tacche di ricezione C'è copertura telefonica ma in caso che in mezzo alla vegetazione la copertura si riduce Noi abbiamo le nostre radio per tenerci in contatto Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul canale, io sono Stefano Oggi vi porto in centro Sardegna, provincia di Nuoro, ci troviamo nel comune di Teti Siamo a poca distanza da Ustis, mi porterò a fare un giro in questo sentiero immerso nella natura incontaminata Qui andiamo alla scoperta di questo sentiero e buona visione Grazie per la visione! Grazie per la visione! Diamo un'occhiata al chilometraggio di questa camminata Abbiamo percorso un chilometro e 81 Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine Se vi è piaciuto mi lasciate un bel like Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto Seguitemi anche sui social se siete appassionati di radio Ho anche un canale zello Un salutone dalla Sardegna e ci vediamo con il prossimo video Ciao!